Giudizio immediato per l'ex presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi. Il 57enne palmese è accusato di corruzione. A disporlo il GIP del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella. La vicenda riguarda la piantumazione di 40 palme nella villa dell'ex presidente in cambio della promessa di acquistare l'intero patrimonio vegetale da un vivaio. Il processo inizierà il prossimo 5 novembre davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. Della questione si era anche occupato Giulio Golia della trasmissione media Setteleiene. Il procedimento scaturisce dall'inchiesta che lo ha visto condannato in un altro processo a un anno di reclusione e pena sospesa per abuso d'ufficio. A Dorsi vennero contestati dai rimborsi spesa pagati dall'ente per una serie di pranzi effettuati senza che vi fosse il fine istituzionale.